Gianni un po' di voi mi avete scritto che cos'era questo scafandro che sto utilizzando ultimamente questo scafandro è di un'azienda che si chiama Easy Dive, fate se vuoi papi vi metto il link costa sulle 590€, se volete acquistarlo ci sono anche degli sconti tramite me quindi lo pagherete di meno ed è uno scafandro in cui vanno bene tutti gli smartphone sia Android sia iPhone, basta scaricare un'applicazione e con questo touch univoco per ogni cellulare comandate il cellulare stesso e potete portarlo sott'acqua e io lo uso per fare video eccolo qui, è un bel aggeggio, costicchia un po' per una volta preso poi potete pure cambiare 100.000 smartphone, va bene per qualsiasi smartphone è un po' ingombrantuccio però voglio dire sempre meglio di uno scafandro per macchine fotografiche e io lo uso molto per fare i video sott'acqua di buona qualità posso fare video anche in 4k con il mio iPhone e quindi ho risolto un po' di problemi usando questo qui sott'acqua grazie 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 grazie